L'emozione è tanta, mi sento carico di responsabilità ovviamente perché nel territorio da cui provengo manca un consiglio regionale da tanto tempo, quasi 20 anni, quindi dovrò studiare tutte le situazioni che sono in essere. Arrivo dal mondo sindacale, quindi attenzione massima su questo mondo e in particolare per il mio territorio e il territorio vestino, in generale però per tutti i cittadini abruzzesi assolutamente.